Nuovo naufragio nel canale di Sicilia. 121 in salvo ma i morti sono almeno 10. I cadaveri di 10 migranti sono stati recuperati nel canale di Sicilia dal rimorchiatore Cougar. Dopo che il barcone su cui viaggiavano si è arrovesciato. Sono state soccorse e messe in salvo circa 121 persone. Un'altra nave, l'adattilo della guardia costiera, è giunta sul luogo del naufragio e è pattugliato la zona in cerca di altri superstiti. La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per naufragio e omicidio plurimo colposo. La nave dattilo aveva già a bordo 318 migranti soccorsi in una violazione precedente. In tutto sono stati circa un migliaio di immigrati soccorsi in queste ore e che stanno per approdare in vari porti della Sicilia. Oltre a quelli presenti sul dattilo, a Pozzaro è previsto l'arrivo di una petroliera con a bordo circa 183 persone, mentre altre 319 arriveranno a Porto Empedocle.